Un sentito ringraziamento per la gioia di condividere insieme la festa di Santi Pietro e Paolo, patroni della Chiesa di Roma e testimoni dell'amore misericordioso di Dio. Con questi sentimenti Papa Francesco ha accolto la delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, ribadendo che è giusto celebrare insieme la loro offerta per amore del Signore, che allo stesso tempo memoria di unità nella diversità. Il Pontefice ha ricordato che lo scambio di delegazione tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli in occasione delle rispettive feste patronali accresce il desiderio di ristabilire pienamente la comunione tra cattolici e ortodossi. Punto di riferimento in tal senso è l'esperienza del primo millennio, quando i cristiani d'Oriente e d'Occidente partecipavano alla stessa mensa eucaristica, coltivando tradizioni spirituali diverse. Nelle parole del Papa anche ricordo di due coraggiosi e lungimiranti pastori, Paolo VI e il Patriarca Atenagoras, a 50 anni dei loro storici incontri, ma anche l'abbraccio al Cairo con Bartolomeo, con il quale c'è una visione comune sulle sfide del mondo e della Chiesa. Cari fratelli, l'unità di tutti i suoi discepoli è stata accorata e richiesta che Gesù Cristo ha presentato al Padre poco prima della sua passione e morte. Il compimento di questa preghiera è affidato a Dio, ma passa anche attraverso la nostra docilità e obbedienza alla sua volontà. Preghiamo gli uni per gli altri, perché il Signore ci conceda di essere strumenti di comunione e di pace, confidando nell'intercessione dei Santi Pietro e Paolo e di Sant'Andrea, Grazie a tutti.